amici del teatro guanella ciao sono enzino iacchetti anch'io sono un amico del teatro guanella tant'è che quest'anno anche in quel teatro ci sarà la mia presenza sia fisica che non allora apriamo la stagione con un grandissimo programma il 6 di ottobre addirittura con un musical che si intitola dancing queen ogni mese ci sarà prosa per adulti prosa per bambini insomma tematiche di contenuti molto importanti poi ci sono anche concerti musicali straordinari e attenzione anche spettacoli dedicati a chi magari non può concedersi il prezzo del biglietto una rassegna intitolata gli ultimi in prima fila vogliamo mettere questi povera gente da davanti e allora inauguriamo proprio il 12 di ottobre alle ore 16 venite insieme a questi senza tetto praticamente e io sarò il conduttore di uno spassosissimo programma di cabaret dopo ci sarà anche un weekend dedicato tutto a me in un'intervista confidenziale in cui potrete venire farmi tutte le domande su questo strano mondo dello spettacolo e della televisione vi racconterò la mia carriera poi ci sarà una sottonatale una regia mia di un gruppo di ragazzi bravissimi insomma andate sul sito www.teatroguanellamilano.it e poi cercate tutto tutti gli spettacoli io vi aspetto ciao